ciao a tutti oggi prepariamo insieme un pane alveolato fragrante leggerissimo che si mantiene per giorni con lievito madre gli ingredienti li trovate nell'info box sotto il video e nel blog e adesso prepariamole insieme ho rinfrescato il mio lievito madre ha raddoppiato di volume dopo 3-4 ore quindi è bene attivo ed in forza ne peso 130 grammi e li metto in un contenitore adesso sciverzo dell'acqua a temperatura ambiente e di seguito un cucchiaino di zucchero mescolo bene o con un mestolo oppure con le mani facendo sciogliere il lievito madre all'interno dell'acqua se vuoi realizzare il tuo lievito madre ti metto il link nell'info box sotto il video e le schede video verso nel contenitore della planetaria altra acqua ci metto il sale e lo faccio sciogliere mescolando poi aggiungo la farina andrò ad utilizzare una semplice farina zero mescolo col mestolo velocemente facendo assorbire grosso modo tutta l'acqua dal contenitore in questo modo terrò la farina in autolisi per circa 20 minuti questo faciliterà lo sviluppo del glutine copro con un canovaccio e aspetto trascorsi 20 minuti verso il lievito madre all'interno del contenitore della planetaria ed inizio ad impastare col gancio andrò ad impastare il tutto per un totale di circa 15 minuti alternando la velocità 2 con la velocità 3 se vuoi realizzare il pane con il lievito di birra cotto in pentola ti metto il link nell'info box sotto il video e nelle schede video ecco che l'impasto è pronto prendo un contenitore da frigo e lungo bene con un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva sia sul fondo che sui bordi del contenitore dopodiché ci lascio cadere l'impasto all'interno ed inizio subito facendo un giro di pieghe fare delle pieghe fatte bene agli impasti è fondamentale perché ci garantirà uno sviluppo corretto dell'impasto tra l'altro sono anche semplicissime da fare basterà semplicemente tirare l'impasto e riportarlo dalla parte opposta premendolo faccio questa operazione sui quattro lati dell'impasto fatto ciò copro con il coperchio e lascio riposare l'impasto per 20 minuti dopo 20 minuti procedo con il secondo giro di pieghe tiro l'impasto e lo porto dalla parte opposta premendolo faccio questa cosa sui quattro lati dell'impasto in questo modo l'impasto prenderà forza diventando sempre più tenace copro con il coperchio e lascio rilassare altri 20 minuti trascorsi 20 minuti procedo con il terzo e ultimo giro di pieghe e fatto anche l'ultimo giro di pieghe copro con il coperchio e lascio lievitare io lo lascio lievitare per tutta la notte quindi per circa 10 ore a temperatura ambiente ed ecco il mio impasto il giorno successivo guardate che meraviglia infarino il piano di lavoro e ce lo lascio cadere capovolgendo il contenitore a questo punto lo allargo semplicemente tirandolo senza schiacciarlo e adesso formo la mia pagnotta rotonda sovrappongo i due lembi di impasto e li premo chiudendoli faccio la stessa cosa anche dall'altra parte e al centro dopodiché arrotolo chiudendo sempre l'impasto e lo faccio anche dall'altra parte arrotolo e chiudo l'impasto dopodiché giro l'impasto lo capovolgo e formo un panetto facendolo roteare sulle mani faccio con delicatezza il panetto è pronto a questo punto prendo un cestino per il pane ci metto un canovaccio pulito e lo infarino bene in tal modo il panetto non si andrà ad attaccare al canovaccio adesso sistemo il panetto all'interno del canovaccio infarinato lo infarino anche sopra e lo copro lo metto nel forno spento con la luce accesa e aspetto il raddoppio del volume e dopo un paio d'ore ecco il mio pane ben lievitato a questo punto preparo la mia pentola di alluminio per la cottura del pane nel forno accendo il forno statico a 250 gradi e ce la sistemo all'interno e porto il forno a temperatura il forno è a temperatura e la pentola è ben bollente a questo punto ci capovolgo il panetto all'interno con un movimento ben deciso il pane non si andrà ad attaccare perché la pentola è calda e quindi si formerà subito una crosticina una volta capovolto muovo un po' la pentola per sistemarlo bene all'interno metto il coperchio ed in forno il forno come già vi ho detto è statico a 250 gradi faccio cuocere il pane per 40 minuti dopo 40 minuti di cottura tolgo il coperchio abbasso il forno a 220 gradi e procedo la cottura per altri 25 minuti a cottura ultimata tolgo il pane dal forno guardate che meraviglia puoi cuocere il pane anche sulla teglia da forno oppure su una pietra refrattaria in tal caso non sarà necessario capovolgerlo ma sarà necessario praticare dei tagli sulla superficie prima della cottura troppo bello se voglio ottenere un pane più croccante all'esterno rimetto il pane nel forno a biscottare per circa 10 minuti sempre nel forno caldo statico a 220 gradi ed ecco il mio pane adesso ho anche biscottato è un pane buonissimo fragrante, leggero, digeribile, alveolato si mantiene per giorni a tutte le qualità del mondo e pensate che l'ho fatto con una semplice farina zero a questo punto prima del taglio anche se sono molto tentata devo farlo freddare per farlo freddare in modo corretto basterà appoggiarlo su un tagliere per il verso verticale io ho aspettato due ore prima di tagliarlo e questo è il risultato ma vi faccio vedere anche il giorno successivo come si presenta ed ecco il taglio il giorno successivo guardate che meraviglia io spero che questa ricetta semplice con lievito magre fatta in casa vi sia piaciuta vi abbraccio a presto